Polemiche sul terzo ponte ad Alba e l'alternativa degli ambientalisti. Crescono gli impianti 5G, ma la regione non brilla per ricerca e innovazione. E l'azienda Meroglio cede il marchio Caracter. Mancano strutture in Piemonte per l'accoglienza dei minori immigrati. L'acceso dibattito sul decreto Zan sull'omofobia, le storie e le associazioni coinvolte. Intervengono psicologi e teologi. Per l'osteria della tradizione la saga dei marsupino presso Vicoforte e la scomparsa del re delle torte alla nocciola. Napoleone tra antiquari e albesi fucilati. Per Alba, capitale d'impresa, un tour nell'archeologia industriale e nel linguaggio aziendale. Nel Braidesa, Tessisquare crea un campus per l'imprenditoria e Panalba investe 72 milioni. Barolo, città del vino, parte con una mostra. A Montassi progetta l'impresa sociale. Stati generali a Carasco sulla cortivazione di nocciole. Una regione alle prese con la biodiversità. Questa e tant'altra notizia su Gazzetta d'Alba e Medicole online dal martedì.